il meglio della lavorazione dei metalli e prezzi imbattibili o affari incredibili da proporvi no non 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 Sì, 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 sì. All right, won't do that again. Come to me. Non troverete i prezzi violenti. E prezzi imbattibili. Avvicinatevi. Avvicinatevi. Exciting. Please. What? I'm stuck. Fine, come on, I'm stuck. Wait. I think that's gonna shoot my heart. No, come back. Let me murder you. Never mind. No, come back. 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 Roba sopraffina. I prima scelta. I'm stuck. Look at this. How is the progress of medicine? Alchimia and vertebrates are here. Is that it? ok Oh It's never that nice Right Probably shouldn't say that out loud though Really Alright Fine, I'll come No Oh Come on For me Oh 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 Yay Oh, you're fine Oh, get off this one Oh 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 I'm very much Oh 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 He's going to have win at the end of this questo è un po' troppo lungo oh, è un po' Non potete non approfittare di questi prezzi! Date un'occhiata! Non resterete veloci! Già. O una fascia del rimeo raso vorrebbe un tocco di caldo. Giunti dalla rabbia! Che ne dite di provarli? Sì, valutate voi stessi! Guardate le ultime opere del signor artistico! Sì, stai. Oh. Uff! Oh! Non potete non approfittare di questi prezzi! Date un'occhiata! Non resterete delusi! sono sicuro che non potete non approfittare di questi prezzi date un occhiata non resterete si si lo scopo wow si 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 E' bocca, pane, stoffe, caffeti. Yeah, he didn't move from that score. I miss playing this Unfortunately Not many people played anymore Those who do aren't that nice But again That's my personal experience Not that anyone's going to be this far in the video To actually hear this I don't know if it can be heard actually Okay, bye bye